Il 29 novembre si terrà l'udienza camerale per l'aggressione subita da Claudio Micoschi, calciatore dell'Avellino, dalla notte del 4 maggio scorsa al termine della gara, persa contro il Foggia, valida per i play-off di Lega Pro. L'udienza è stata fissata a seguito dell'istanza di patteggiamento presentata dai legali Fabio Tullimiero, Gaetano Ufieri e Nicola D'Archi, accolta dallo stesso tribunale che avvaluterà la richiesta di applicazione concordata dalla pena per i tre autori di tal episodio. La procura avrebbe già evidenziato il proprio consenso e quindi potrebbe risolversi con un patteggiamento alla vicenda che vede imputati tre ragazzi per una rapina gravata nei confronti del tesserato dell'US Avellino. Gli autori di tal episodio sono stati già colpiti ad aspa e non potranno seguire la propria squadra all'interno degli impianti sportivi. Una pagina triste per lo sport è per la tifoseria vellinese che nei mesi precedenti è finita sulle pagine nazionali per l'eco di tale notizia.